Un'attività importante che svolgiamo, e la svolgo anch'io in prima persona, è proprio quella di essere aggiornati sulle novità a livello mondiale. Quindi andare a vedere le fiere, continuare a capire quello che troviamo in internet e parlare con utilizzatori, parlare con aziende in modo di scegliere il meglio tra i prodotti che possiamo trattare. Perché come dicevo, mi ripeterò però, per noi è molto importante fare delle scelte oculate, non avere tutte le cose, tutti i materiali, tutte le attrezzature, ma fare delle scelte e poi trattarle in maniera molto molto oculata per fare la differenza soprattutto per il cliente.